numero 5 crea storie e stili da favola con la principessa barbie dreamtopia chioma da favola un regalo perfetto per ogni occasione questa barbie principessa è caratterizzata da capelli lunghi extension color arcobaleno da acconciare e intrecciare e uno strumento che rende lo styling facile e divertente barbie presenta un look da principessa ispirato all'arcobaleno con un corpetto brillante e una gonna removibile per raccontare storie e divertirsi con la moda se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 ottimo rapporto qualità prezzo per barbie set da viaggio la barbie dispone di valigia apribile e di un cucciolo nella confezione sono inclusi adesivi 10 accessori e un abito di jeans ottimo rapporto qualità prezzo i bambini curiosi viaggeranno in giro per il mondo insieme a barbie e al suo set da viaggio la valigia rosa di barbie ha un manico a scomparsa e si apre e si chiude per divertirsi a riempirla e svuotarla inoltre può essere decorata con il foglio di adesivi inclusi trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 barbie principessa magia d'inverno indossa un magnifico abito dai colori del ghiaccio decorato con fiocchi di neve e uno strato di tulle luccicante premi il pulsante sul corpetto per una magica trasformazione il suo abito si apre svelando fiocchi di neve argentati blu e rosa richiudi la gonna e gioca di nuovo svelando la magica trasformazione tutte le volte che lo desideri una ciocca di capelli rosa tra i lunghi capelli biondi aggiunge un tocco di fantasia magnifica la sua coroncina argentata per un look incantato idea regalo per ogni occasione in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 2 barbie modello extra sfoggia capelli extra lunghi biondi ondulati con ciocche rosa raccolti parzialmente con fermagli incignon spaziali il look sbarazzino e allegro rispecchia tutto il suo carattere con un top scintillante e pantaloni con stelline abbinati a una morbidissima giacca lanosa rosa gli accessori di barbie tra cui una poscetta forma di snack un anello orsetto gommoso diversi gioielli argentati occhiali da sole e stivali alati aggiungono un tocco personale nella confezione è incluso un simpatico maialino se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 barbie magia delle feste incarna lo spirito delle feste con un vivace abito rosso il suo elegante abito è impreziosito da una stella di natale applicata alla scollatura e da un'ampia gonna lunga ornata da uno strato di tulle e petali satinati splendidi orecchini pendenti dorati e labbra rosse completano il suo look questa magnifica barbie porta i lunghi capelli biondi ondulati in un'acconciatura parzialmente raccolta in una confezione perfetta per l'esposizione barbie magia delle feste è un regalo fantastico il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione